Signor Sindaco, momento di auguri, momento anche di riflessioni, quello del Natale, poi più in là nell'approssimarsi verso l'anno nuovo. E allora qual è la riflessione che si sente di fare a titolo personale e da amministratore anche verso i cittadini che ci ascoltano? Che il momento è difficile in Italia, è difficile in Europa, è difficile nel mondo e quindi anche imperia risente della crisi economica che c'è. Stiamo facendo di tutto per rilanciare questa città in un momento congiunturale complicato, riaprendo cantieri, garantendo un possibile sviluppo turistico più forte, di qualità, con la pulizia della città, il riordino delle strade, le scogliere, una sistemazione di accoglienza, di arredo e di decoro, di illuminazione della città che possa esaltare le caratteristiche di una imperia che è bella, che ha enormi potenzialità e che deve essere rilanciata. Questo lo stiamo facendo con grande impegno e sono molto lieto di avere una squadra di collaboratori, assessori, in particolare consiglieri e dirigenti che stanno mettendo tutto loro stessi insieme a me, con amore e compassione, per dare una prospettiva migliore, un futuro migliore alla nostra città. Senta, poco dopo il suo ingresso in Comune, una delle prime notizie che divulgò fu quella di aver, ahimè, trovato tanti debiti nei cassetti. Poi una notizia importante della Corte dei Conti che in pratica ci disse che imperia è salva perché era stato accettato il piano di riequilibrio. Cosa vuol dire che sotto l'albero di Natale qualche regalo c'è? Sì, perché la situazione economica era disastrosa, con più di 10 milioni di debito fuori bilancio, con delle responsabilità pesanti, il rischio quindi del fallimento del Comune, scritto più volte dalla Corte dei Conti e quindi abbiamo riacciuffato per i capelli una situazione di fallimento. Abbiamo messo ordine in casa, che è la prima cosa da fare, nei conti, nella gestione delle spese, nel modo in cui si spende, nella riduzione dei costi, nel far pagare gli evasori che non pagavano e non aumentare le tasse. La prospettiva di questo quinquennio sarà di ridurre le tasse comunali. Siamo riusciti, nonostante l'emergenza, con il taglio delle spese e facendo pagare coloro che non pagavano, a tenere i conti in ordine. Siamo stati a tempo di record approvati dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti come piano di riequilibrio e di risanamento delle casse.